Vediamo quando si accenderà il lampione, ha un nome questo lampione? No, glielo diamo? È la mascotte del festival, il protagonista assoluto. Lo chiamiamo Pino? Pino, non può essere un'idea, quindi ringraziamo Pino. Che succede adesso? No, le volevo chiedere, ma lei per il suo cortometraggio, perché l'abbiamo qui in veste inedita, è riuscita ad avere qualche sponsor per realizzarlo? Secondo lei? Non lo so, l'ha pagata l'attrice. No, perché se no facciamo una vertenza sindacale. Non ci sono capitolati di spesa nei cortometraggi, i cortometraggi si fanno gratis, perché uno poi va nei posti e è ospite, se poi è ospite e non c'è il sole, uno dice, ah siamo venuti qua a questo festival, però non c'era il sole, ma uno viene perché vuole vedere una manifestazione. Quindi ripeto, il cortometraggio è bello, perché nessuno viene pagato, io non conosco uno che abbia preso una lira per fare il cortometraggio, quindi chiunque vuole fare i cortometraggi e non vuole pagare le tasse, può fare i cortometraggi perché non deve poi, non c'è ritenuta da contro, non c'è nulla. Ero ad un'altra rassegna di corti lo scorso anno e sentivo parlare e ripetere sempre della stessa questione. L'organizzatore stava così perché quello aveva promesso mille euro, però forse non li dà, quell'altro deve pagare, non paga. Do un consiglio a tutti quelli che devono organizzare delle manifestazioni culturali, fate le feste di piazza con quelli del Grande Fratello, con quelli idronisti, perché le amministrazioni comunali 5.000-10.000 euro li tirano fuori subito, non perdete tempo. Quindi una bella sagra del nulla, la sagra del pesce fresco. Poi ce ne sono parecchie. Sagra del pesce fresco si fa facilmente perché sono 6-7 kg di pesce massimo, quando c'è la sagra del pesce fritto, secondo voi che vi possono dare da mangiare? Allora la sagra del pesce fresco sono 6 kg di pesce, finisce subito dopo 5 minuti e fate venire uno ignorante, che è contento di essere ignorante, perché oggi l'ignoranza è una forma, è una fonte di reddito. Oggi una madre si deve preoccupare e deve controllare se il figlio in camera sta leggendo un libro, perché magari diventa una persona acculturata e poi che fa? Poi che uno di cultura, che va a fare dopo? Quindi mi raccomando, cercate di fare così e vedrete che i soldi finanziamenti si trovano. Grazie. Comunque questo corto ha avuto successo nei festival, chissà come mai. Sì, perché lo vogliono proprio come sigla iniziale di tutti i festival, perché rappresenta la situazione così. Ma continuerà a fare il regista di cortometraggi? Sì, sì. Perché le permette di continuare a sperimentare quello che ha fatto in tv? No, già me ne è venuto in mente uno qui su Villa Mare, proprio come sono arrivato, su una certa situazione. Temo quello che sta per dire. Temo quello che sta per dire. No, Villa Mare è bello perché tutti dicono, era bello quel tuo corto con quel rumore del mare dietro. Dicono, guardate che è proprio la colonna sonora di tutti i cortometraggi di Villa Mare è lì, perché l'acqua sta lì. Oggi, se ci fosse stato il mare, quelle file lì non c'erano perché l'acqua arrivava lì. Quindi è un festival particolare perché c'è questa bellissima, naturale colonna sonora. Quindi se dovessimo fare la rassegna stampa poi uscirebbe su tutti i giornali questa cosa è la colonna sonora. guardate tutto le pare. Fie a sé.